Drone aggressore tradizionale Drone aggressore nemico rilevato Alveare restauratore tradizionale Alveare restauratore nemico rilevato Alveare restauratore nemico rilevato Il tuo tempo sta per finire Drone restauratore traditori rilevato Drone restauratore nemico rilevato Drone restauratore nemico rilevato Drone aggressore nemico rilevato Drone aggressore nemico rilevato Drone aggressore nemico rilevato No! Agente traditore, eliminato.